La notizia è la data il giornale svizzero Ticino Online, vi metto il link in descrizione, che riferisce che SIX, cioè la società che gestisce la borsa di Zurigo, la borsa svizzera, ha ricevuto il via libera per gestire una borsa e un deposito di titoli per criptoattivi, cioè in altri termini è autorizzata a creare un exchange insieme a quello attuale, a quello per le azioni, anche per le criptovalute e l'approvazione è arrivata dalla FIMMA. La FIMMA è proprio l'autorità governativa, l'agenzia governativa svizzera che vigila sui mercati finanziari, come la Consobe italiana. Sebbene non si sappia ancora di preciso cosa farà SIX, è però difficile immaginare che vada a creare una piattaforma completamente differente rispetto a quella che c'è già adesso, su cui far scambiare le criptovalute. Secondo me è molto più probabile che decida di integrare le criptovalute sulla loro piattaforma attuale. D'altronde, come si può vedere dal numero di notizie che riguardano SIX che abbiamo pubblicato sul Cryptonomist, si tratta di un exchange, una borsa molto attiva nel campo della blockchain e anche da tempo. Quindi non c'è affatto da stupirsi se quello che vogliono fare è proprio consentire ai loro clienti di scambiare anche criptovalute. E se volete, questo è il loro sito ufficiale, se volete andare a dare uno sguardo, in realtà si tratta soprattutto di un exchange, cioè una borsa che ha a che fare con le azioni, cioè di una borsa azionaria, però a questo punto è possibile o immaginare che all'interno di questa piattaforma vengono inserite le criptovalute, oppure che SIX crei proprio un altro exchange dedicato magari solo al mondo cripto. La cosa importante è che si tratta proprio della borsa valori svizzera. Ora, la Svizzera, per quanto riguarda le criptovalute, è uno dei paesi più avanti al mondo. Io sinceramente persino mi stupisco che ci abbiano messo così tanto da autorizzare SIX, che è la borsa ufficiale diciamo della Svizzera, quella di Zurigo, quindi come fosse in Italia la borsa di Milano. Mi fa un po' strano che ci abbiano messo così tanto, ma alla fine li hanno autorizzati e quindi a questo punto potrebbe anche non passare tanto prima che alla borsa di Zurigo sbarchino le criptovalute o direttamente nella piattaforma già esistente o con un'altra piattaforma. E visto che qua si sta facendo davvero davvero sul serio e la Svizzera ormai su queste cose è veramente top level, io sinceramente mi stuperei tantissimo se dopo la borsa di Zurigo una cosa del genere non la facessero anche altre borse, magari a partire da quella di Londra oppure anche, che ne so, da quella americana, le varie borse che ci sono negli Stati Uniti. Certo esistono già dei prodotti simili perché alla borsa di Chicago ci sono i future sui Bitcoin però non c'è proprio lo scambio diretto delle criptovalute. Però adesso che lo fa la Svizzera e che è autorizzata dalla Finma, che comunque è famosa al mondo per essere un'autorità governativa seria, è davvero impensabile che non lo facciano anche gli altri. Insomma, per le criptovalute sta davvero iniziando una nuova era un'era in cui fanno perfettamente, completamente, assolutamente parte del sistema finanziario tradizionale, comprese le borse. Poi, come al solito, se doveste avere ancora di dubbi o domande ricordatevi che potete sempre scrivermi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Metto il mio indirizzo in descrizione. Un saluto! Ciao!